Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, oggi siamo qui perché vi voglio spiegare 2-3 cose La prima è parto subito, sono quasi un mese che faccio un video ogni settimana Allora io non ho problemi per fare video o non li voglio fare Anzi, io li voglio fare però ho terminato le idee Quindi sto cercando, sto vedendo altri video per farmi venire le idee E meno male che li ho trovate un po' Ovviamente non ve li dirò in questo video però li vedrete tra poco alla fine, fra qualche giorno Allora, seconda notizia, non ne posso fare a meno Ho cercato di staccarmi dal wrestling ma non ce la faccio Quindi stanotte, stanotte, no io lo carico oggi questo video Scusate, domani notte per voi e per me ci sarà l'evento che non me lo vado a vedere in diretta Ma me lo vado a vedere dopo in live streaming Quindi, però ci sarà la live reaction a Facebook in 2021 Quindi, ultima e terza cosa che vi dovevo dire Fra una settimana, quindi sabato prossimo Inizierà la MotoGP e la Formula 1 Qui usciranno le live reaction di le qualifiche della gara Sei di Moto3, Moto2 e MotoGP che è di Formula 1 Quindi, la prossima settimana si aprirà ancora un'altra possibilità per video Ed ecco che ritorno al mio piccolo piano che mi ero fatto Che partendo anche con questo fatto di Formula 1 Posso portare veramente molti contenuti Rispetto a quando ne portavo e ne sto portando una Visto che è un mese che faccio un video in sette giorni Quindi, questo qui è quello che vi dovevo dire Vi ringrazio per aver visto questo video Mi raccomando iscrivetevi, campanellina E tra poco lascerò anche il mio link del mio canale TikTok Ogni tanto faccio dei video Oppure annunci che ci sono i video su YouTube Quindi, ve lo metterò nella sezione informazioni Quindi, datemi a seguire anche su TikTok E ci vediamo in un prossimo video Cioè, domani Ciao, ciao